Un terribile frontale all'alba tra un'auto ed un camioncino della nettezza urbana nel quale è rimasto gravemente ferito un 43enne. È successo questa mattina attorno alle 7.30 lungo la strada regionale 71 tra Camucie e Castiglion Fiorentino nel comune di Cortona in località Case Sparse e Cegliolo Mezzavia. Un violento impatto frontale tra due veicoli, un'auto ed un camioncino della nettezza urbana. Un uomo di 43 anni è rimasto gravemente ferito, è stato ritrasportato in codice rosso alle scotte di Siena. Ferito anche un 22enne trasportato all'ospedale della fratta in codice giallo. Sul posto, oltre ai sanitari dell'emergenza urgenza dell'Asla Toscana Sud-Est, anche i vigili del fuoco che hanno lavorato per estrarre la persona incestretta tra le lamiere, i carabinieri della compagnia di Cortona e la polizia municipale per i rilievi di legge.